Un nuovo appuntamento con i nostri amici animali, sempre in compagnia di Virgilio Camillini, Presidente AESA da confersecenti dell'Emilia Romagna, un esperto nel settore, con il quale stasera vogliamo parlare di aree di sgambamento per soprattutto cani. Questo è un tema importante perché insomma, soprattutto nelle nostre città, non ne esistono e voi avete allo studio e la volontà di poterle creare, perché per gli animali sono fondamentali. Sì, diciamo adesso ne esistono già, qualcuna vanno perfezionate, però noi appunto stiamo favorendo questo progetto, questo processo perché la gente comune, l'opinione pubblica richiede appunto delle aree per portare il cane in sicurezza, quindi i nostri operatori sono anche ben disponibili, anche se c'è da dare una mano, aiutare anche per la realizzazione per queste aree e quindi insomma non ci trova che d'accordo per favorire questa necessità, come anche i cimiteri per animali che stanno nascendo e sempre più gente lo richiede, quindi se mi posso permettere come associazione, anche come imprenditore del settore, io vorrei fare un appello alle amministrazioni pubbliche delle nostre zone affinché vengano realizzate queste aree.